Sì, questo è quello di friscia, come si pronuncia? Panzerbeffelwagen Panzerbeffelwagen 6P L'ho visto, l'ho visto, l'ho visto Caro laggiù Io sì M4A2 76 Un M4A2 normale Vabbè, anche l'M4A1 76 lo dà come M4A1 normale Lì, Costex, lì Dove, dove, dove? Cristo Davanti, 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 davanti Non lo vedo io Io sì 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 Sì, sì, motore, intanto stai fermo lì Un 18? Dov'è passato da dietro? Un 18? Dov'è passato da dietro? Un 18? Dov'è passato da dietro? È passato da dietro? No, dal fianco, dal fianco, qua, qua, qua Cazzo di Alcat No, 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 sei anche spento quell'altro stronzo Gistä V benvenuto BF 109 che sta andando Eh, mezzo1 contro 2 quindi LvS venga è il un Po' e il Un po' e se hai fatto soltare il posto da un'altra 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 tropeglia tracciato augurato per grande attraverso estremi scelto sono bravi a giocare ecco quello che ha colato quello da pezzi no sbagliato visto è di stato ancora di sotto ovviamente lucio c'è un altro un cazzo sta andando questo hello no aranciato oh cosa quello no cazzo mancato poste scoprimi frontale per favore a un aereo il film il film sta bene yes sera io se mi metto davanti al loro spawn non faccio più passare nessuno con questa corazza il film il film il film il fuoco se fu così che piacerebbe che troppo totalmente frontalmente è vero soltanto non mi prende neanche gli s2 r il film il film testo da parte a parte il film c'era 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 steve 6 mi ha spuntato davanti per una faccia da dire per cazzo c'è 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 prossima game nel 2013 vedeci anzi questi successo di mezzo belso un po' carlo di nuovo carlo di nuovo carlo di nuovo t26 su quello j gpz quello la 0 ah eccolo la non lo vedo non lo vedo non lo vedo neanche io ecco ecco aspetta ma poi mi sono colpo oh diritto sul fianco ti ho preso dai necessita aiuta 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 lo sanno colore un cingolo che hanno creatato frontalmente no c'è un carro di un m18 o o o o e si necessito con m18 perché altro e dove che aspetta e sta arrivando da qua io riesco a vederlo no mi hanno fatto la canna riesce di entrare no cingolo fatto quindi mi venite aiutare o perdo un equipaggio alla volta eh non ti posso aiutare perché non li vedo eh raga ma veni davanti dio cristo ma sei di là dal colle de gingio oh che cazzo è a parte il dato che adesso ci stanno arrivando dietro da b mi hanno fottuto mi hanno fottuto mi hanno fottuto che cos'è c'è qualcosa oh la visita vedo gli spari vedo gli spari ah c'è qualcosa qui ok come lì che solito riesco a arrivare da dietro da c eh ma anche qui ok aspetta chi fa quello di quello c walker bulldog è quello che stanno dai che cristo ah è su c la puttana su c si l'ho detto che avevo visto dai il radiatore servatoio davvero cazzo spari ostwin aspetta che venga più giù non lo prendi neanche quei miracoli quello oh hai riventicato occhio bella 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 hai preso la metatrice o 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 la metatrice ecco mi sembra averlo visto lì dove sei troietta ah no è qua vai c è libera ok alè p51 è andato dai bene culo no victor di merda che mi sei posto davanti io? si ah beh con i punti dove cazzo no o se si togli in pagina mi scopi e pili cosmo per il b eh lo si sta non è finito no c'è un carretto da pittorio hai assicurato lì c'è un modo di retire 2 le scuole torniate la piccina il principale no quelli più quelli più avanti più sinistra mappa la scuola si muove migliore io mi infilo qui guarda che il commit mi ha sparato un colpo sicuro nel pomo che non mi puzza puzza hello fuori uno c'è un altro c'è un altro si 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 l'ho visto 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 occhio no mi hanno fatto da davanti non è vero da destra preso ma io ho fatto un cazzo eeeh c'è un altro cartone come si si lo so e riparo 10 secondi preso un altro sta arrivando lo sento è lì dietro questa casettina metti in ping ok ok e' proprio vicino e' vicino e' vicino e' vicino e' vicino quanto cazzo ah eccolo qui dietro eccolo eccolo motore radiatore serbatoio è fermo fa tanto ridere fa tanto ridere fa tanto ridere ah no è arrivare e' il problema è quello quello lì incoglionito che cazzo ti metti sulla linea dello spawn che sei individuato no dalle spalle no dalle spalle preso l'ho lasciato esposto dal fianco della torretta quanti sono quei metti navanger c'era un avenger sul punto che mi aspettava toccato ore 12 eh si si l'ho visto 24 sono due uno ripreso l'altro è in campo aperto ecco si sta muovendo aspetta muoverlo cazzo l'ho praticamente eliminato uh da ster da dietro praticamente morto mi dai dietro che palle basta cos'è assist ero in arrivo ero in arrivo ero in arrivo ero in arrivo bomba guarda che c'è un narval mh ero in arrivo ero in arrivo vittor mitragliatrici secondo te cannone l'esparato impatta morto per un naso se c'è un naso del cazzo dal ponte o in giro vado a fare un po' di sterminio non saranno in bocca è proprio storto c'è un t-34 qui da me che adesso verrà violentemente ucciso ma in tutto questo mi sta sfondando sto stronzo mi ha davvero fatto fuori un cazzo ah ma perchè ce l'avevo dietro vai vieni qua giù vai uè la è esplosa alla fine quella stronza eh è nato 85 è uscito da un minuto braccio destro la squadra mi piace questo mi sono sicuramente un altro filo aereo è è è Grazie a tutti